Ciao ragazzi, ciao ragazzi. Da qualche settimana siamo tutti in campo contro un avversario terribile che per adesso è in vantaggio, è in vantaggio contro di noi, però noi pallavoliste e pallavolisti siamo abituati a giocare di squadra e siamo abituati anche a rimontare delle partite impossibili che a volte sembrano impossibili, pensate a quante volte vi è successo magari di vincere un torneo, una partita, un set e sembrava perso e dobbiamo quindi affrontare questo nemico, questo avversario con lo stesso spirito di dover fare un'impresa e lo dobbiamo fare tutti insieme, dobbiamo farlo tutti insieme perché mai come adesso sicuramente insieme vinceremo, insieme sconfiggeremo questo nemico, però dobbiamo fare squadra e la squadra più importante da aiutare è sicuramente quella dei medici, i medici stanno facendo delle cose davvero eroi, davvero protagonisti assoluti di quello che sta succedendo, ci stanno aiutando, stanno facendo sacrifici stanno mettendo a rischio la loro vita, per cui aiutiamoli, aiutiamoli con un contributo e aiutiamoli allo stesso tempo rispettando le regole, noi siamo abituati nelle nostre squadre, chi più che meno delle regole, delle regole che tutti insieme bisogna rispettare, adesso ce ne sono state date poche ma importantissime e dobbiamo essere noi a saperle rispettare, come in una squadra, quindi rispettiamo queste regole così ci aiuteremo noi, aiuteremo i nostri cari, aiuteremo chiunque, perché chiunque dobbiamo aiutare, chiunque conosciamo e soprattutto aiuteremo quei medici che stanno facendo di tutto per aiutare noi. Grazie e vinciamo insieme questa partita, restando a casa.